Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di smartphone di SuperJet 4 qui in smartphone siamo qui con questi nuovi nokia nuovi nokia allora questi sono i nuovi nokia si quindi nokia 8 plus smartphone da 5,3 pollici nokia 6 5,5 pollici doppia sim quindi è 4g 3 gigabyte 32 gigabyte c'è scritto anche da dove è acquistabile se voi leggete o se andate sul sito qui l'ho scritto io li trovate c'è questo nokia 5 lite argento e silver questo nokia 3 5.0 matte black team poi c'è questo nokia 3 nero e nokia 5 smartphone da 16 gigabyte argento poi c'è c'è questo nuovo nokia microsoft microsoft lumia vabbè questo non sa poco nokia 6 64 gigabyte dual sim libero nero nokia 5 4g 16 gigabyte coppa e poi c'è anche questo nokia 635 single sim quindi a una sim e basta 4g 8 gigabyte nokia 3 5,0 pollici silver white team c'è questo nuovo nokia lumia 640 nokia 3 3 1 0 blu nokia 5 dual sim light argento silver ok ragazzi questi qui sono i nuovi nokia quest'anno sponsorizzati compra ora quindi ragazzi commentate iscrivetevi lasciate un mi piace e ciao ragazzi ci vediamo la prossima ok 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 Grazie a tutti.